2, ripeto, 5, 6, 7, 8, giro e 1, 2, la testa si abbassa quando c'è il tuo braccio, boom, ecco, ok, giro e come, ripeto, 5, 6, 7, 8, 1, 2, stessa cosa con il braccio destro, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ok, allora, ripeto, 7, 8, ok, giro, chiudo, giro, chiudo, ora, 2 di braccio, 1, 2, quindi blocco, 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 sposto, e sposto, e destra, e sinistra, e destra, e sinistra, e destra, sinistra, e sinistra, e sinistra, 7, 8, vai, e 1, 2, 7, 8, come? 7, vai, e 1, 2, ok, tutta la seconda parte, quindi dal giro del braccio, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, mi sposto verso destra, 7, e 8, 7, 8, vai, e giro, chiudo, giro, chiudo, e tira, 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 mi devo spostare, i passi sono 3, il calcio, 2, 4, 6, 8, faccio, 3, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, Grazie.